Oggi Marina di Guardo, madre di Chiara Ferragni e nonna dei piccoli Leone e Vittoria, ha visitato gli scavi di Pestum, rinomati per le rovine greco-romane. Con il suo gruppo di lavoro, Marina ha esplorato il sito archeologico, immergendosi nella storia e nella cultura di uno dei luoghi più affascinanti d'Italia. Come sua figlia Chiara, anche Marina tiene molto alla presenza sui social network e ha condiviso con i suoi fan una serie di foto della visita. Attraverso i suoi post, ha documentato l'intera esperienza, offrendo ai suoi follower un viaggio virtuale tra i templi e le rovine di Pestum. Le immagini caricate sul suo profilo mostrano non solo la bellezza del sito archeologico, ma anche l'entusiasmo di Marina per la storia e la cultura antica. Il legame di Marina con i social network è evidente e, come Chiara, si impegna a tenere aggiornati i suoi fan sui suoi spostamenti e le sue avventure. Questo approccio trasparente e coinvolgente permette ai suoi follower di sentirsi parte del suo viaggio e di apprezzare le meraviglie storiche di luoghi come Pestum. La visita di Marina di Guardo agli scavi di Pestum rappresenta un esempio di come i social media possano essere utilizzati per condividere cultura e conoscenza, creando un ponte tra passato e presente.